Domani a Roma, in occasione della riunione del tavolo di monitoraggio sui conti della sanità, presenterò la richiesta formale della Regione Abruzzo di uscita dal commissariamento. Lo ha detto nel capologo adriatico l'assessore alla programmazione sanitaria della Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, a margine della conferenza stampa di presentazione del Siren Festival di Vasto. Un obiettivo oramai alla portata, alla luce degli adempimenti che sono stati eseguiti e che riguardano quattro punti, il potenziamento della rete dell'emergenza urgenza, la rivisitazione del percorso nascita, l'ingremento dell'offerta sanitaria sul territorio e l'esclusione della quota sociale dalla compartecipazione ai ticket sanitari. Vada raccolto l'invito perché davvero forse questa è la manifestazione sul punto più elevata che si produce oggi in Regione Abruzzo e che pertanto in qualche modo vada secondata, accompagnata, valorizzata anche dall'Istituto della Regione Abruzzo che ha problemi di risorse finanziarie che si conoscono ma che può anche finalmente con qualche notizia positiva in più e con qualche rigore in più messo in campo in quest'annualità cominciare a vedere al proprio futuro con un pochino più di flessibilità e quindi con qualche margine di risorse aggiuntive. La risposta ufficiale del tavolo di monitoraggio si avrà con ogni probabilità nel mese di settembre ma secondo Paolucci esistono tutti i presupposti perché l'Abruzzo sia la prima Regione tra quelle commissariate a rientrare nei ranghi della normalità e a garantire i livelli essenziali di assistenza.